Presidente Recchi, che cos'è la connettività richiede? Oggi non basta più dare velocità di connessione alle imprese e alle famiglie, bisogna dargli servizi, perché attraverso i servizi le persone hanno bisogno quindi di velocità di connessione. Quindi noi stiamo diventando delle grandi piattaforme, lo facciamo sia nei servizi alle famiglie, penso ai video e ai contenuti mediatici, come alle imprese, dove penso alla capacità di essere una specie di Apple Store per le imprese, dove diamo software, hardware, connettività attraverso cloud in piattaforme aperte, che offrono quindi alle imprese la capacità di sfruttare al meglio le potenzialità del digitale. Lei ha citato le persone, persone che vanno anche portate a usare il digitale, bisogna creare una domanda, e lei ha parlato di rottamazione del non digitale. Oggi noi siamo troppo focalizzati, o siamo stati troppo focalizzati, a costruire l'infrastruttura, ma se non c'è domanda, l'infrastruttura è inutile. I dati ci fanno vedere che il consumo di Inter, l'abitudine a Internet o l'e-commerce in Italia è molto più basso che nel resto d'Europa. I motivi sono diversi, ma il principale è che non c'è abitudine. Ove ci fosse una pubblica amministrazione che usa il digitale, l'effetto non è solo per migliorare i servizi, non è solo per aumentare l'uso delle reti, ma soprattutto obbligherebbe tutti i cittadini a cimentarsi con uno strumento che ormai è diventato di facilissimo uso, ma a volte scoraggia per principio. Quando noi fossimo obbligati a fare tutto questo e quindi fossimo incentivati a farlo, un piccolo costo in più attribuito a servizi di carta analogici, cosiddetto, rispetto a un vantaggio a fare le cose digitali, secondo me spingerebbe tutti a farne di più, e avremo 60 milioni di persone che trasformerebbero questo paese. E' stato anche molto diretto rispetto al ruolo del governo, l'ha giudicato, il modo in cui ha agito, ma ha anche detto che cosa dovrebbe fare. Il governo ha fatto bene perché ha fatto un piano industriale, ha dato degli obiettivi, quello di cui hanno bisogno gli investitori privati. Sta cominciando ad attuare in più le risorse necessarie a coprire le aree in cui i privati da soli non possono andare perché non c'è una domanda sufficiente. Questo è il modo in cui bisogna fare le cose, quindi bisogna farle in congiunzione tra gli sforzi dei privati, che sono gli investimenti, e le buone regole del governo che ha proprio il ruolo di legiferare, unito poi a quelle che sono le autorità che hanno il compito di farle rispettare. Ognuno nel suo ruolo, ognuno nel suo campo, così facendo produrremo con ordine, competenza e concentrazione quello che è l'Italia del futuro. A lei, grazie. Grazie a tutti.